ciao a tutti makers e bentornati anche questo sabato qui nel matrilab non vedevo l'ora di pubblicare questo video infatti questo progetto è quello che ha portato luca quando mi ha detto matteo vorrei venire qui a fare lo stage e mi piacerebbe tanto fare questo progetto ed eccolo qua ragazzi no 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 non si tratta del pannello o i gancetti ma di quello che sorregge il pannello e i gancetti ebbene è iniziato tutto così ciao a tutti makers e bentornati anche questo sabato qui nel matrilab dove stiamo per rivoluzionare tutto dico stiamo anche se in realtà è lui l'artefice non si vede ecco luca è il nuovo aiutante che è arrivato qui nel matrilab oggi ve lo presenterò prima però dobbiamo scaricare tutto il materiale che mi ha fatto comprare per un progetto che vuole portare qui nel matrilab dai cominciamo guarda guarda che faccia che c'era il secondo giorno di stage ma aveva appena fatto spendere mille euro per questo progetto e pensavo di presentarvelo subito nel senso erano convinti che questo video sarebbe uscito all'inizio di luglio terminato di scaricare il camion adesso basta per oggi basta mi chiamano domani vado a tagliarmi i capelli e luca ci vediamo domani pomeriggio direttamente eravamo gasati a mille volevamo partire subito col progetto e poi è passato un mese fino a quando luca ha iniziato a provare questo desiderio nel approfittare della presenza di persone che passavano per il matrilab e così visto che in quel periodo c'era peppe per un giorno e stefano per un giorno mi ha detto matteo siamo già in quattro facciamo il progetto e facciamolo praticamente si stanno dividendo i compiti siamo in quattro ma sembra più un mercato quest'oggi inizieremo a realizzare un progetto che ha voluto fare luca cioè quello di togliere tutte le scafalature che vedete qui nello sfondo per realizzare una parete una parete dove poterci appendere tutti gli attrezzi e come ha detto lui trovarli anche senza luce ad occhi chiusi come c'è peppe che è iniziato a far sgobbare tutti eh hai visto abbiamo stefano che è arrivato grande grazie di dio visto che gli si è fermata l'auto bene avete capito qual era l'idea di luca abbiamo fatto un'idea di quelli che dovevano essere i materiali da acquistare siamo andati ad acquistarli ma non c'erano era il periodo in cui mancava il materiale quindi abbiamo preso il primo legno che abbiamo trovato con l'idea di dividerlo a metà e farne quindi vari pezzi ma poi il banco sega mi ha detto Matteo io non ce la fa io non ce la fa e quindi ho dovuto andare a ricomprare il materiale e restituire quello che non avrei più utilizzato praticamente è successo che il travetto 10x10 che avevamo qui quindi questo travetto qua che avevamo comprato ancora all'inizio dal tirocinio da 4 metri non va bene perché il taglio con la doppia lama non riusciamo a farlo di conseguenza l'unica cosa che possiamo fare è comprare altri travetti e quelli del brico restituirli e magari tenerne un paio per riuscire a fare i mobili interni io e Stefano adesso stiamo spostando tutte le schiappalature in modo che quando arrivano Peppe e Matteo che sono andati a comprare il legno poi iniziamo l'installazione cioè andiamo a costruire il frame e poi andiamo a installarlo così si trovano già tutta la strada pronta alla fine l'ho trovato quello che me l'ha venduto il legno e quindi ci siamo spostati alla progettazione con Omastr noi per rafforzare la struttura in testa metteremo un altro morale doppio morale poi per esempio quando capita l'aggiuntura dei due moduli esatto a mezz'aria noi che dobbiamo calcolare adesso quant'è l'altezza finale 250 avevi detto? sì 250 ok di conseguenza qua sono 2 e 16 esatto come fai così taglia il primo abbiamo l'ingegnere Comastro l'esperto in elettronica io sono l'unico inutile siamo pronti per partire ma io e Peppe abbiamo una riunione quindi inizieranno Luca e Stefano a tagliare in primi murali che abbiamo portato a casa io e Peppe e quindi dovrò restituire gli altri poi quando hanno tagliato i primi pezzi possiamo iniziare ad assemblare e tecnicamente dovremo metterci poco ci basterebbe già visto che siamo in quattro riuscire a buttare su le tre pareti e poi per completare la parte più di copertura ci arrangiamo io e Luca insomma cioè siamo forti eh bene allora mentre Peppe e Matteo sono in riunione io e Stefano iniziamo a tagliare i primi murali facciamo i frame quelli sopra e quelli centrali finchè poi arrivano i ragazzi per montarli tutti insieme andiamo al lavoro la riunione è completata e qui è un cantiere o mastro a tracciare si dice o mastro tutto libero quindi è meglio se mi metto a fare qualcosa anch'io dai serve la squadra io c'ho questo Peppe la squadra come avete visto eravamo partiti a bomba grosse risate e quindi te la fai una pausa no no non oppure dai gelatino minchia a me no come no dai ragazzi all'ultimo giorno cambia vite si si dai μαggio dei caffietta pensavo sarà piace oh peppe rimane proprio lì rimane un gelato lì rimane un gelato lì grazie oh giuseppe poi piano che devo finire il gelato però prima di finire il lavoro che uomo esatto bravo steppe lo devi fare qua e lo stagista si mangia il gelato anche il capo la via in fondo queste invece avevamo pensato no ma queste qua erano per fissare la terra però a questo punto anche questa no no queste ce la potresti pure fa forando dentro ma ce l'hai il tassello si è qua o il fuori più grande qua lo potremmo pure fa perché i fuori sono piccoli gelato finito siamo finalmente pronti per partire se non fosse che zio billy non avevamo abbastanza viti e quindi sono dovuti andare a comprare allora io e peppe adesso prendiamo e dobbiamo andare lui col battifilo io con lo spago che viene chiamato lenza in gergo tecnico assegnare la parete di tutta lunghezza che è quella che parte da lì e arriva fino all'altra parte adesso proviamo a vedere se ce la facciamo intanto c'è matteo che sta tagliando roba a manetta i ragazzi che stanno fissando tutte le cose per terra eccovi la super allora questo è il filo che va fino da peppe perfetto va fino da peppe il filo va fino da peppe ma te vai a battere poco al centro per piacere perfetto peppe ha detto che adesso si buttano sulle pareti quindi trafano pronto dai buttiamo su nostre pareti eravamo finalmente partiti speditissimi stasera finiamo tutto il temporale ha tolto la corrente e non possiamo fuori la parete dobbiamo rimanere qui tutte tutte pagate c'è un po di temporane Uggire vita disse queste a pressione si batte questo è lo sai perché si usano queste quante ne molti centinaia al giorno quindi invece di mettete la pila mette a a posto possiamo andare a casa invece c'è ancora questo queste sono le idee guardate che casino guarda che casino le idee di luca ho detto che ingegnere io metto a squadra d'occhio lui con la regola del 30 40 50 praticamente una regola antichissima che dice che per mettere dei grossi volumi delle grosse pareti a squadro devi segnare una regola empirica è sul lato metti 30 è empirica o antica è la stessa come empirica va bene per tutto poi intervengo io e che aggiungo un qualcosa come dice praticamente che fai tu per mettere una parete lunga ti basta fare 30 per 40 segni 30 46 al centro si trova 50 ti trovi perfettamente a squadro e qui deve essere cinque spiegazione tipo a solo una cosa del genere perché se fai 30 al quadrato più 40 al quadrato sotto radice ti viene fuori 50 e perché è il teorema di pitagora ma qua già ci siamo per te io vi anticipo soltanto che confusion 360 veniva la stessa cosa uguale adesso mettete pausa andate nei commenti e diteci la verità che ve ne pare di questa idea metti pausa va nei commenti alla fine stavamo realmente andando gli spediti e nulla più ci poteva fermare pareti installate andavano rinforzate io porto già la paretina di rinforzo parete finita e con ancora un'ora a disposizione per far qualcosa abbiamo detto o che facciamo lo mettiamo un pannello di cartongesso uno tanto per vedere come viene solo che stefano non lo fermavi più esatto 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 guarda questo guarda questo dove vai vai io ci sono qua vite 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 stefano rimane per un'altra mezza giornata si dobbiamo sfruttarlo un'altra mezza giornata o lui ragazzi chi si guarda il video sappia che finché c'è luca ogni ogni persona che varcherà questo portone è sfruttato a causa sua è sfruttato no gentilmente ci danno una mano gli chiediamo una mano gentilmente quindi visto che la parete era su o mastro non serviva più ragazzi buongiorno giornata successiva pepe è tornato a casa noi andremo avanti con il mega progetto cos'è che dobbiamo fare stamattina che che fa l'epilogo allora stamattina dobbiamo finire di fissare tutto il cartongesso con le viti infatti dopo utilizzeremo un laser in modo che sappiamo trovare il travetto dall'altra parte ma non è che buchi col laser no poi stefano si occuperà di mettere su di stuccare e poi mettere sugli angoli in ferro qui e poi io e matteo mi sa che inizieremo a tagliare su il usb e fare la parete interna e da domani luca sposterà tutto questo perché io non ho il video per sabato pronto siccome dopo dobbiamo metterci tutti i pannelli in obs qua osb osb obs te lo devi dimenticare osb osb facciamo un segno per terra di dove abbiamo il travetto così dopo ci mettiamo il laser così vediamo direttamente quando è momento di fissarlo il pannello di osb lo troviamo direttamente perfetto un ingegnere luca adesso fa partire la musica e noi facciamo un po di segatura e alla fine se n'è andato pure stefano abbiamo quasi finito la parte la sopra da tagliare quella lì comunque domani mi sa perché ormai stasera tardino dovremmo mettere sulle perline buongiorno giorno 3 quest'oggi si parte a perlinare il progetto era praticamente completato solo che eravamo di nuovo in due e ci eravamo di nuovo accumulati una montagna di attività quindi ragazzi sono passati non so quanti giorni questa mattina siamo andati a prendere delle perline che mancavano per completare il lavoro completato ci manca un dettaglino la sull'angolo sistemo io nel frattempo luca sta facendo altro vi faccio vedere luca sta dipingendo gli spigoli quelli che poi richiameranno il tema che avevo fatto anche dall'altra parte che andranno messi lì sopra li devo ancora tagliare eccolo lì che non sono più sfocato e qui sopra idropittura lavabile specifica per cartongesso sembra essere la nostra trovata abbiamo quindi terminato la parte esterna quella che da sull'ufficio quindi mantenendo lo stesso stile lasciando libero un passaggio dove io potessi entrare con l'auto quando c'è rischio di grandine oppure anche con un furgone quando devo scaricare o caricare qualcosa che deve passare per questa zona comunque mi sono mantenuto libero questo passaggio per poter passare anche con il travatello qualora mi servisse dall'altra parte successivamente l'obiettivo era quello di completare la parte interna dove dovevo replicare lo stesso effetto che avevo fatto alla prima parete realizzata cioè l'effetto antico con l'aceto sperando che il risultato fosse uguale non identico era impossibile alla parte già esistente ed ecco qui il risultato completato ragazzi favoloso mi è costata una follia ma è veramente favolosa questa parete ora ho finalmente una zona dove poter appendere gli attrezzi come gli avevo una volta tra l'altro se notate in questa parete non ho utilizzato la french clear perché a parer mio dopo averla utilizzata posso dire che a parer mio si l'ho ripetuto perché a parer mio la french clear per me è una cagata pazzesca grazie fantozzi per averlo detto te l'ha detto lui mi sono comprato quella parete in metallo e ho creato con la stampante 3d dei gancetti tra l'altro sicuramente li pubblicherò nella pagina patreon che potete scaricare e sono universali perché quella parete lì in metallo è universale la trovate rossa e blu vi lascio anche di quella il link in descrizione nel caso siate interessati perché mi sembra che qualcuno su instagram me l'aveva chiesta il risultato è favoloso soprattutto perché la tinta è praticamente identica a quella della parete tra l'altro mi sono accorto che l'estate ha fatto lavorare ancora di più la tinta andando a scurirmi ancora di più la parete da questa parte ed è proprio ciò che volevo ma zio billy c'avevo le lame della sega a nastro appoggiate lì mi ha lasciato lo stampo non guardate il banco che sto realizzando perché è un progetto futuro che sto realizzando a tempo perso infatti l'ho realizzato una prima parte con un amico che è venuto qua a trovarmi un'altra parte con un altro amico che è arrivato qua che era di passaggio e poi sono andato avanti con luca e quindi lo sto facendo a tempo perso tanto è vero che non penso di realizzarne un contenuto ragazzi a me non resta che salutarvi vi invito a smartellare il pollice in su non solo per luca e l'idea che ha realizzato ma per il risultato e per tutti coloro che mi hanno dato una mano a realizzarla e in primis i patreon perché zio billy questo progetto qua è costato una follia quindi grazie a tutti i patreon grazie a peppe grazie a stefano che sono venuti a trovarmi e a darmi una mano e ragazzi a me non resta che salutarvi e darvi appuntamento a sabato prossimo perché sabato prossimo vi pubblico un video che ha realizzato luca in segreto boh ho deciso anzi no un'altra volta quello